La ferrovia turistica del Tanaro è l'unica ferrovia turistica propriamente detta di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, è nata ufficialmente nel 2016 e il tracciato è quello più celebre della linea Ceva Ormea. Quest'anno è il quarto anno di attività della ferrovia turistica, ci saranno altri tre convogli turistici, quindi convogli con carrosse 100 porte trainate da un locomotore diesel o da un locomotivo a vapore, il 13 ottobre con il treno dedicato alla castagna e al fungo di Garessio e poi l'8 dicembre con il treno di Natale a vapore da Ceva Ormea. Un progetto che si ispira ai due elementi che caratterizzano l'Alta Valtanaro che sono il fiume e la ferrovia. Racchiudiamo all'interno del progetto la valorizzazione di tutte le risorse naturali, culturali, turistiche ed economiche. A 29 anni a Garessio facciamo il secondo e il terzo weekend di ottobre la castagna garessina. Dal 1200 è nota nei libri di Garessio, era famoso albero del pane, chiederemo la denominazione origine comunale. Alla castagna garessina abbineremo funghi che Garessio come è noto è proprio una delle zone di protezione di raccolta maggiore, li aspettiamo tutti a Garessio il secondo e il terzo weekend di ottobre. Grazie a tutti.